Musica Guasti alle tubature con allagamenti e cedimenti TVA Cipriani e via Riva di Reno Disagi e deviazioni del traffico mentre era al lavoro per ripristinare la normalità Aveva 95 anni Ferruccio Laffi tra gli ultimi testimoni delle stragi nazifasciste di Marzabotto Intanto monta la polemica per i tagli del governo ai risargimenti per le vittime degli eccidi Wim Wenders presenterà questa sera in videoconferenza al cinema Rialto la sua ultima pellicola Perfect Days, premiata Cannes Basket, dopo la sconfitta con il Maccabi Tel Aviv la Virtus Istanbul sfide turchi dell'Anadolu Efes per riprendere la soccorsa in Eurolega Buongiorno e benvenuti al telegiornale d'Incronaca in studio Tommaso Corleoni in redazione Chiara Scipiotti e Nicole Ceola Partiamo con i disagi per i bolognesi di questa mattina in zona Marconi dovuti a due distinti problemi alla rete idrica Ci colleghiamo immediatamente con Amalia Picella che sul posto ci aggiorna sulle ultime novità Sì, grazie Tommaso Siamo qui su Viale Pietra Mellara dove sono in corso i lavori li vedete alle mie spalle questa mattina la zona si è svegliata sott'acqua a causa di un allagamento dovuto alla rottura della rete idrica dal sottosuolo quindi all'altezza dell'incrocio con via Cipriani in direzione Porta Lame è uscita l'acqua che ha allagato la carreggiata fino all'incrocio tra il Viale e via Bovi Campeggi il traffico quindi questa mattina è stato bloccato dai vigili all'altezza di via Bovi Campeggi in direzione Porta Lame ma con ripercussioni anche in tutte le strade limitrofe Gli altri disagi si sono registrati in via Riva di Reno dove per noi c'è Lorenzo Grosso Lorenzo, qual è la situazione lì al momento? Sì, grazie Tommaso io mi trovo qui a via Riva di Reno dove la strada è stata chiusa a causa di un danno alla rete idrica intorno alle 4 di questa mattina nel tratto compreso tra via San Felice e via Lenzi il tubo che ha ceduto ha creato un avallamento nell'asfalto i tecnici di IERA sono già al lavoro per riparare il danno che dovrebbe essere risolto entro la giornata di oggi e la chiusura riguarda il tratto tra Piazza Azzarita e via San Felice più lunghi invece i tempi per la sistemazione del manto stradale nel frattempo residenti e commercianti si trovano senza acqua e le linee degli autobus sono state deviate in direzione via Lame e via Calori potrebbero dunque esserci dei ritardi e disagi fino al termine di questi lavori questa mattina stavo passando sui viali e mentre arrivavo ho visto che c'era un lago un fiume totale che copriva tutta la strada anche abbiamo avuto una deviazione e ci ha fatto passare dall'altro lato ma erano bloccati per almeno 300 metri 400 metri non saprei dire c'è un grande traffico da quando è scoppiato il tubo chiudono l'acqua naturalmente noi siamo fermi con il lavoro con la lavastovigli con il caffè essendo in bar ci penalizza tanto saltate le consegne e quant'altro sicuramente il disagio più grande è per i condomini che si sono trovati stamattina con un metro e venti d'acqua con le cantine allagate Cronaca Lutto a Marzabotto che piange alla scomparsa di Ferruccio Laffi uno degli ultimi sopravvissuti delle stragi della seconda guerra mondiale la sua scomparsa mentre il governo sembra intenzionato a rivedere i fondi per le vittime delle stragi nazifasciste il punto e il racconto nel servizio di Nicolceola Partigiano testimone degli eccidi di Marzabotto voce nelle scuole per tenere vivo il ricordo di ciò che è stato questo era Ferruccio Laffi morto ieri a 95 anni nella sua Marzabotto la sua storia personale ha una spiccata importanza politica Laffi è stato un partigiano a partire dal 1 marzo 1944 ed è poi diventato un testimone chiave dell'orrore di una delle pagine più buie della seconda guerra mondiale il 30 settembre 1944 infatti Laffi aveva appena 16 anni e rincasando la sera scoprì che 14 membri della sua famiglia erano stati ammazzati dai nazifascisti quello di Montesole fu l'eccidio più tragico in termini di vite tra il 29 settembre e il 5 ottobre vennero ammazzate 1830 persone sui tre comuni di Marzabotto Grizzana Morandi e Monzuno Laffi perse i genitori e i due fratelli con le rispettive moglie e i rispettivi figli il più piccolo aveva appena un mese chiuso per molto tempo nel suo silenzio decise poi di rielaborare il proprio trauma portando la propria storia nelle scuole tra i banchi delle generazioni che non avevano vissuto la guerra ma dovevano conoscerla per non ripeterla la ripetizione di episodi parafascisti avviene ne sono un esempio i recenti fatti commemorativi di H. Larenzia dove oltre mille esponenti di estrema destra hanno fatto il saluto fascista a quanto pare la memoria in certi casi è corta e sembra esserlo anche per la vocatura di Stato nel 2022 il governo Draghi ha istituito un fondo di 61 milioni di euro per i risarcimenti alle vittime delle stragi nazifasciste la Germania non paga e lo Stato italiano decide di farsi carico degli indennizi l'avvocatura di Stato però in rappresentanza di Palazzo Chigi e del Ministero dell'Economia ha deciso di fare di tutto per negare i risarcimenti con obiezioni giuridiche spesso fantasiose emblematico l'esempio di due sorelle modenesi finiti in istituto dopo l'omicidio del padre da parte dei fascisti a loro l'avvocatura ha detto che erano troppo piccole per provare dolore all'epoca dei fatti in cronaca ha intervistato Gianluca Luccarini presidente dell'associazione vittime Marzabotto che ha sottolineato come gli indennizi siano stati principalmente devoluti in Toscana perché l'Emilia Romagna è ancora in attesa della sentenza in realtà l'avvocatura non ha messo in discussione il risarcimento ha solo chiesto una proroga di tempi per discuterne del risarcimento ci occupiamo ora di sanità l'influenza ha colpito duramente quest'anno il nostro paese e secondo gli esperti il picco dovrebbe arrivare entro fine mese ce ne parla Giovanni Guidi sono oltre 885 mila le vaccinazioni anti-influenzali fatti in Emilia Romagna da inizio autunno la regione continua ad essere quella con la più alta adesione alla campagna vaccinale dati incoraggianti in aumento di 150 mila iniezioni rispetto alle registrazioni di fine novembre ma che non bastano per creare il cosiddetto effetto grege che serve a tutelare più fragili fra i 32 casi gravi registrati in 22 erano fragili non vaccinati purtroppo nei casi peggiori anche l'influenza può essere mortale e lo dimostrano i tre decessi di questo inverno per ora risulta coperta dal vaccino poco più della metà degli anziani e sarebbe importante vaccinare anche i bambini la categoria che si ammala con maggior frequenza fra quelli in età prescolare l'incidenza della malattia è aumentata di ben otto volte rispetto a metà ottobre l'assessore regionale alla salute Raffaele Donnini ha invitato i cittadini a tutelarsi siamo in prossimità del picco influenzale e c'è ancora tempo per fare il vaccino per questo occorre un ulteriore sforzo i medici consigliano di non dimenticare le buone norme apprese durante il covid come lavarsi le mani frequentemente e indossare la mascherina semplici prevenzioni che hanno fatto scendere notevolmente i contagi di influenza durante la scorsa pandemia è in questo momento in sala il suo ultimo film Perfect Days in occasione della proiezione questa sera al cinema Rialto sarà presente in videoconferenza il regista tedesco Wim Wenders Chiara Scipiotti è andata per noi in Ava Scoperta per rivelarci l'ultima fatica del cineasta vieni a trovarmi il mio amico Wim chi? il mio amico Wim Wim Wenders qui se in Boris Wim Wenders alla fine non si presentava sul set di Occhi del Cuore a Bologna il regista torna invece spesso e volentieri stasera sarà anche se solo virtualmente al cinema Rialto per presentare il suo nuovo film Perfect Days candidato dal Giappone come miglior film straniero agli Oscar l'incontro si svolgerà in diretta streaming a partire dalle 21 a cui seguirà la proiezione in lingua originale presentato al festival di Cannes e considerato un animamente dalla critica al migliore di Wenders Perfect Days racconta la vita tranquilla di Irayama un uomo di 50 anni addetto alle polizie dei bagni pubblici di Tokyo una scelta non casuale quella di Wenders i bagni pubblici sono uno degli aspetti più importanti dell'accoglienza nella cultura giapponese e accogliente anche Irayama nei confronti dello spettatore aprendogli le porte della sua vita tranquilla per mostrargli la sua routine e le sue passioni il lavoro i libri la musica la cura delle piante addirittura i suoi sogni è facile cadere nella tentazione di pensare che la vita di Irayama sia noiosa ma in realtà è una scelta precisa di cui con il progredire della storia lo spettatore capirà meglio i contorni Koji Yakusho interpreta il silenzioso protagonista prestando estrema attenzione alle delicate sfumature dello sguardo un lavoro sul personaggio che gli ha valso il premio per la migliore interpretazione a Cannes chiudiamo con lo sport Matteo Pignagnoli ci aggiorna sulla situazione in casa Virtus dopo il K.O. di ieri le Vunere cercano il riscatto in Eurolega con i turchi dell'Anadolo Efes dopo la sconfitta in campionato con Reggio Emilia la Virtus si ferma anche in Europa perdendo per 95-78 contro il Maccabi a Belgrado le Vunere partono bene portandosi anche sul più nuove nel corso del secondo quarto in avvio il grande protagonista è Bellinelli che chiuderà con 24 punti e 7 triple realizzate le buone percentuali permettono ai bianconeri di chiudere il primo tempo sotto di un solo punto ma nella ripresa emerge tutta la fatica accumulata dopo i tanti impegni ravvicinati delle ultime settimane palle perse poca presenza rimbalzo e tanti errori liberi spianano la strada al Maccabi guidato da Baldwin e di Bartolomeo che chiude la terza frazione avanti per 70-60 nell'ultimo periodo gli israeliani allungano ancora senza trovare grande resistenza chiudendo così la partita i ragazzi di Coach Banki non avranno però tempo per riposare domani alle 18.30 Istanbul i bianconeri saranno infatti ospiti dell'Efes da cui la Virtus ha da poco ingaggiato il centro croato Ante Zizic fondamentale tornare al successo anche perché nel frattempo il Barcellona grazie al successo contro l'Olimpiakos ha agganciato le buone nere al secondo posto questa era l'ultima notizia di oggi vi ringraziamo per l'attenzione un saluto dalla redazione di Incronica Grazie a tutti Grazie a tutti